Gereviso un centottantatresima edizione, nella televisione segnaliamo un servizio di presentazione della fiction intitolata Myanmar che andrà prossimamente in onda su Rai 1 che vede come protagonista Bianca Guaccia. Per il cinema un ampio reportage con servizi audio video sul Festival del Cine nella capitale, la recensione della commedia Due Cuori Una Provezza e quella del divertente film maschi contro femmini per la regia di Fausto Buzzi, campione di incassi in Italia. Per lo spettacolo un servizio di presentazione della nuova stagione dell'auditorium della conciliazione nella capitale, la recensione della commedia Forza Venite Gente sulla vita di San Francesco e quella della divertente PS intitolata Scusami sono l'unione e ti posso richiamare di Gabriele Pini. Per Mondomedia un servizio sulla nuova sfida di Google che lancia nel panorama tecnologico il primo televisore internet al mondo. Per l'arte un servizio sulla mostra di Osvaldo Ricini alla gambe di Torino, sulla mostra sulla Francia del 1500 al grande palais di Parigi, sul movimento Cobra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e sull'esposizione della rosa come simbolo dell'arte floreale nella capitale.